Buon day, io sono barbuto ma non ho la barba Oggi sono, eh? Oggi ho un outfit particolare Oggi sono in tenuta da Elfo Aiutante di Babbo Natale perché oggi finalmente giorno Quanti ne abbiamo oggi? 15 15 dicembre, ma voi il video lo vedrete il 16 Finalmente Giuseppe è barbuto ma non ha la barba Ha deciso di fare l'albero di Natale Ovviamente io sono un aiutante di Babbo Natale Ma oggi avremo un'altra aiutante E sono io Ecco il nuovo aiutante Se non sei iscritto al canale iscriviti e commenta con Hashtag nuovo iscritto se sei nuovo Se finisci a questa banda di... Ok? Oggi è bella Il mio ragazzo mi aiuterà a fare l'albero di Natale Allora, quello che ci serve non è? Un albero Un albero Quello che ci serve è un albero Oddio Ho detto No Siamo Ma te sei capace a montare un albero di Natale? Sì Di chi è questa felpa? Mia No È mio È mio L'hai regalata fuori? Non è vero Sì Invece Tiri fuori e adesso non diciamo Un bacetto Oddio L'abbiamo rotto C'era una mazza da bestie No, adesso devi tirar fuori ogni cosa Questa qua grande Così Wow E poi di ognuno tiri fuori i pezzi Questa è la base invece Però è strano che ne ha solo tre la base Non è che ci hanno fregato Comunque l'albero l'abbiamo scelto bianco L'albero di tutte e due Anche se lo terrò io Guarda ha detto qualcosa Qua sotto rimane così Sì perché poi vai ad aggiungere questo qua Sono esperta di alberi di Natale Sì Laura aveva anche tu con un babbo Natale A me mi hanno assunto da quest'anno Quindi sono nuovo Ah ecco ecco L'hai rotto Io sono esperta di alberi di Natale Eh ma solo la base Ma solo la base Giuseppe Allora Ma così No Così sembra proprio un cispu E questo è scusa dove si infila Allora guarda C'è tanto Tu devi capire No Giuseppe Ho un'idea Eccala Sì ma fate il cavolo Questo alber No il negozio sembrava bello Il negozio Sì Bisogna impilarlo Quindi bisogna costruire la base Sì costruiamola Però falla tu perché io non ho capito Io sono esperta di alberi di Natale Ma eh Guarda cosa sto facendo io E' sbattissimo ad aprire tutto qua Altro che Sì ma mi sembra che sono tutti Scusa non c'è un libretto delle istruzioni Ma di pare Il libretto delle istruzioni C'è un alberi di Natale E quindi ce ne dovrebbero essere 4 Secondo me Dico di ma E' solo 3 Uno è finito sotto una 6 Allora la base Ah vedi Sì vabbè Eh scusami Allora qua Avevo una Sì ma ti rifare il figo Per il tempo di aprire neanche i rami A che favore Eh ma per questo siamo in 2 E 2 E 3 Ok Abbiamo creato la base del nostro albero Adesso Sì ma sta perdendo tutti i peli Non rimarrà niente Adesso piano piano Andiamo ad aprire tutti i rami Guarda Tac Ecco be' all'opera Sì Siete che sei esperta di alberi di Natale Eh lo so Ma quindi hai lavorato davvero con lui Eh sì Con il signor babbata Ma ha la barba davvero Sì Come il barbuto Allora Io ho il mio nuovo orecchino Che sarà moda di questo Natale 2030 Che trendset il barbuto Sei già avanti nel futuro Sono avanti Sono avanti Cioè le orecchini così ne hai mai visti Eh no Giuseppe E anche io Sono 37 Ecco sei un 37 Hashtag 37 Guarda qui Guarda qui come sono bravo È la prima volta che faccio Da quando abito da solo a Milano È la prima volta che faccio l'albero di Natale Ah sì? Cioè ti servivo io per convincerti a fare un albero di Natale Certo Grazie Oh sta venendo bene? No Ma no devi aprire di più secondo me Che riprese Beatrice Che riprese Video making by Beatrice Costa Proprio lei Altro che influencer qui Sta prendendo forma il nostro albero Sta prendendo forma E che forma è? Direi che Bea può cantarci una canzone Visto che è una bellissima cantante Don't wanna love for Christmas Don't wanna love for Christmas I don't need to vote for the present Don't wanna say a present And the name And the name The Christmas tree The Christmas tree Questo è Christmas tree Ma che età ha questa del 10 All I want is for my own Ah no questo non era italiano Neanche in inglese Il Natale è qui con noi No non è No ma io invento le parole È un remix È un remix I give you my heart I'll just give you no way e gini no e natale barbuto e beatrice costo perché tu sono il cognome perché sono barbuto ma non ho la barba e io tu sei beatrice costo non è che lo slang ma meglio ma meglio cosa lo sai che tutti ogni volta commentano sono barbuto ma non ho la barba sì sì ma a me non commentano sono beatrice costo per perché mi ha una slang e poi io sono un 37 guarda come sta prendendo forma quest'albero che è ok yeah ok ora tocca abbellirlo saremo totalmente viola le luci le luci e le palline quindi prima si mettono le luci tutto viola anche le luci io sono esperta di alberi di natale che posso credere per la millesima volta io sono esperta di alberi di natale che come si fa adesso scusami adesso si stiamo in un attimo cheat ma come hai fatto non ci posso credere non ci posso credere allora secondo me così ok oh oh la ragazzi volevo dirvi una cosa importantissima andate su instagram perché tra poco verrà fatto un annuncio importantissimo per natale farò un regalo a voi quindi andate a seguirmi giuseppe trattino basso trattino basso mi raccomando è non lo so se tu l'esperta di alberi di natale l'ho sempre fatto come questa sarà la frase più commentata di questo video non non deludetemi non deludetemi manca un po di luci stai prendendo forma sta prendendo forma oh ma che bello ok adesso tocca le palline eccola io sono esperta di alberi di natale cheat sta rompendo tutto è brillantina l'ho scelto io queste ah vedi che non sono l'unica e pure io eh vediamo un po sta venendo proprio bene questo alberi sono un po emozionato non sono abituato a stare davanti alle telecamere l'albero direi che è completo l'abbiamo finito manca solo tocco di classe il simbolo il segno ciò che caratterizza ogni video ogni intro sono proprio loro cavolo guarda che roba sto ridendo ma checca e melissa dove fanno ho scritto petacolo e aspetta che non ero checca e melissa just smile quindi questo va qui anche questo me l'ha regalato una ragazza che mi segue quindi ecco qui il tocco di classe aggiunto direi che ci siamo lo possiamo spostare in cameretta e accenderlo è tutto buio stiamo per accenderlo 3 2 1 eccolo mamma mia bellissimo è davvero bellissimo wow l'ho messo proprio di fianco alla finestra così si vede anche da fuori accendere luce benissimo questo è il nostro albero di natale prodotto dolcemente e nataliziamente da bea e giuse spero che il video vi sia piaciuto spero che l'albero di natale vi piaccia fatemi sapere ho messo anche delle vostre cose e l'ho voluto fare viola perché lo scoprirete tra poco andate a seguirmi su instagram e niente finalmente ce l'abbiamo anche noi l'albero di natale bene ci vediamo domani con un altro video ciao sono spero di avervi un po' di giusto